Tradizioni milanesi e Ruggero In tutti gli anni del suo essere milanese ha studiato la realtà cittadina, soprattutto nel suo acquistare una dimensione europea. Ha vissuto questi cambiamenti prima con un occhio distante, ascettico quasi, si direbbe, ma poi sempre più impegnato protagonista e non ha visto mai soltanto da spettatore i cambiamenti di quegli ultimi decenni. Lo ha particolarmente interessato la definizione ultima emessa in funzione nel 2003 del depuratore di Nosedo, proprio dove, ai tempi della prima Mediolanum, vi era un imponente bosco di noci. Tanti quartieri della nostra zona e delle limitrofe hanno nomi che ricordano una piana ricca di alberi tra le risorgive. Questo complesso, che si dice sia l'altezza della migliore tecnologia attualmente fattibile, funziona attualmente al 70% e tratta reflui urbani del nord-est di Milano, per un totale di 14.000 metri cubi al giorno da trattare, con la capacità di assorbire fino a 42 metri cubi di acqua al giorno nel caso di forti piogge. Per condizioni di piovosità ancora maggiore, è previsto il bypass dell'esupero conformamente alle disposizioni dell'Unione Europea. Dopo la dissabbiatura e di altri trattamenti che il signor Ruggero vuole spiegarci, ma che in questa sede sarebbero ridondanti, restano 80 tonnellate al giorno di fanghi al 65% di acqua. Solamente tre camion hanno poco più da smaltire al giorno. L'ossigenazione delle acque, che escono con grado di purezza compatibile con i protocolli europei, viene effettuata dentro a capannoni che sono tenuti in depressione, in tal modo cioè da non permettere l'uscita accidentale di quell'aria ammorbante che caratterizzava fino a poco tempo addietro gli impianti di trattamento acque. Quell'aria ora viene avviata a un cammino catalitico con post-bruciatore. Lungo la circonvallazione filo-viaria 90-91 sorgono ora altre due novità di cui parla ora Ruggero. Si tratta del riutilizzo urbano di due strutture imponenti, eredità dei Molini-Certosa, quella cioè di Piazza Trento, con la conservazione di uno scaleo sotto il vincolo. Beh, non è sicuro, ma si può volendo verificare, dei beni artistici e culturali. Ora, il palazzo di civile abitazione, in cui per motivi di conservazione architettonica i soffitti sono oltre 4 metri d'altezza, con a fianco un autosilo, con centrale elettronica di funzionamento e controllo, veramente all'avanguardia. E quella, all'angolo tra Viale Isonzo e Via Passo Buole, ora albergo a tante stelle, con garage per i 180 posti macchina. In questo secondo caso, non si sono potute usare le precedenti strutture sopra terra, mura ciclopiche di silo sgranare, ma si è impostata l'architettura del Gran Visconti Palace, in conformità a volumetria e planimetria preesistenti. Tanto che qualche nostalgico, anche per nulla anziano, basta che si abbiano almeno 15 anni o poco più per essere nel novero di chi ricorda e può lamentare i vagoni che dal prospicente scalo romana arrivavano direttamente dove ora si trovano l'ingresso e l'office dell'albergo. E quanti abitano nelle vicinanze, sognano talvolta il fischio che bloccava lo scarso traffico notturno per quell'attraversamento, niente affatto raro, quasi quotidiano, dei treni che lungo i binari li hanno tolti solo pochi anni addietro, lasciando la sede ferroviaria e si defilavano attraverso via Lisonzo. Intanto, dove sorgeva la cascina Caimera, tra Naviglio Pavese e Lambro Meridionale, è stato realizzato in questi primi anni del nuovo millennio un complesso residenziale per complessive 800 abitazioni. C'è da sperare che l'Ambro Meridionale, che le costeggia, non tenga mai fede al suo nome originario. Non è leggenda, ma non è noto a tutti che il nome Meridionale è la versione gentilita della sigla MRD. L'Amber MRD era scritto nelle carte antiche per disegnare l'Ulona all'uscita dai chilometri di Tombinatura sotto Milano e vi è concordanza sul fatto che MRD significasse Merdarius. Ottobre 2004 Milano non scarica più un metro cubo di acqua di Fogna nell'Ambro Meridionale e il cavo Ticinello attraversa la parte meridionale di Milano scorrendo sotto la via Bazzi e poi, apparendo allo scoperto, appena dopo la via Antonini, dove si trova una curiosa casetta fluviale. poche centinaia di metri più a sud un cavo attraversa il borgo di Castellazzo in cui si trovava sin da XIV secolo un importante convento di cui rimane la foresteria attualmente adibita al ristorante. www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it